Parliamo della frana di Montalbano che da anni ormai insiste sul territorio, a che punto siamo? Ci sono stati fatti degli interventi e presto ci sarà una risoluzione della questione? Sì, diciamo che con questo progetto finanziato con il finanziamento di PORFESER noi abbiamo scelto di utilizzare i soldi per il rischio idrogeologico e per andare a intervenire nella parte della frana che ancora insiste e cioè via Marconi, mentre via Montalbano credo che l'asfaltatura, ancorché grezza, sia stata fatta in questi giorni in primavera ci sarà l'asfaltatura completa, quindi la strada è completamente transitabile via Marconi invece insiste ancora la frana e lì c'è il progetto di una galleria un percorso a galleria, una sorta di paramassi che possa permettere la riapertura della strada io spero che, insomma, il progetto c'è, il finanziamento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane nei prossimi mesi da parte della regione e quindi i lavori potrà, speriamo che possano iniziare per l'estate e restituire anche quel transito a quei cittadini Grazie!